ma che cappero fai? con tutti quei capelli che hai in testa come hai fatto a non prenderla? bra a tutti bene brutti qui il vostro naked che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video di fifa signori e signori state per assistere alla mia weekend ignorant league godetevi il video dai 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 oh continuano a schippare ma com'è ma c'è qualcuno che effettivamente vuole giocare o no mi piace tutti entrare e poi schippare mi state prendendo in giro oh finalmente santo oddio vabbè vabbè dai più o meno questo è come la mia brava apertura per d'artalico dai d'aglas ma perché sta pascolando d'aglas c'è 95 di velocità santo dio santo vai d'aglas schilla così benissimo vai paolo non puoi sbagliarmelo bravo paolo bravo appena faccio 300 mila crediti sei il primo che compro grazie mille ma che cappero fai con tutti quei capelli che hai in testa come hai fatto a non prenderla non riesce a trovare la connessione mio gear pozzone buona per il crosso ho trattato lo schermo di sputacchi bravo così lo volevo pastor pastorino mio pastorello mio grazie prima partita non potevo chiedere di meglio range quit range quit pulito pulito 2 a 0 ottimo ok baby guy seconda partita eh ma sempre fuori gioco che palla ok raga sta partita mi puzza eh sento già puzza di sabbia misto mosella dubala ma anche due sommari ma no 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 so già come va a finire so già come va a finire guarda 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 non lo sapevo cioè è troppo prevedibile sto gioco è troppo prevedibile troppo guarda o è troppo prevedibile o io lo conosco troppo bene c'è una roba guarda schifosa mannaggia guarda 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 lo sbaglio o me lo paro o lo sbaglio tanto neanche me ne ero accorto come aveva fatto fallo eh figurati 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 me l'avrebbe parato comunque me l'avrebbe parato cazzo guarda oh no niente non 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 c'è modo non c'è modo non sbagliarmelo madonna santo dio guarda mi s'era già s'era gelato il sangue guarda mauro veramente guarda vai andiamo e andiamo andiamo e questo è tutto meritato tutto vai vai simone vai che ancora ce ne hai e che e che maurito maurito lo senti il suono che raga seconda partita secondo vittoria andiamo per la terza ok questo diciamo che non è l'ultimo arrivato eh c'ha Gabby es jesus come prima della weekend league ok questo sarà dura e beh la squadra ovviamente col contro cazzi che gol ha fatto che gol ha fatto quanto è forte quanto è forte che gol ha fatto mamma mia mario super mario tira giro diva stante mamma mia raga mario balottelli mario balottelli signore lo voglio rivedere fabio sbam vai jack vai jack così jack così mamma mia jack che emozioni che mi regalo sempre guarda no 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 non posso farsi errori weekend league non verranno perdonati l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto guarda sono iettata guarda non puoi fare sti errori guarda centrocampo soprattutto non si possono fare non si possono fare ne paghi subito le conseguenze subito jack aiuto jack bomber occasionale giacomo buonaventura mamma mia raga che giocatore non fatevi ingannare dall'overall è una bestia meno male meglio il fallo guarda perché se andava faceva ancora un metro guarda già l'ho capito questo cosa fa oh santo dio guarda lo sapevo guarda lo sapevo lo sapevo lo sapevo zero no rigore non ci credo io sto fermo mi interessa mi interessa eh la dovevo perdere questa la dovevo perdere era troppo difficile che uno questa squadra non mi avrebbe battuto anche se non ci sto perché non ho giocato male cioè non ha meritato per niente però questa è la dura legge di fifa raga terza partita sconfitta vabbè dai ha sempre una squadra non da poco però già più abbordabile rispetto alla partita prima madonna santo dio 18 icon mamma mia ma come ma che che legnata ha tirato ma 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 di piangere paolo di bala credibile gioan pablo quadrato versalico eccezionale con una mozzarella di bufala campana la fa entrare mamma mia che sciabattata che ha tirato mamma mia che schifo di tiro guarda questo qua proprio dallo schifo di tiro non doveva segnare lo dico io contro il mio interesse eccezionale non si ferma più questo milan serghiem link di sav mio nome serghie io farò pagare tutto quello che america ha fatto di russia che raga quinta partita terza vittoria di russia Grazie a tutti.